Ecco i miei tre amori insieme. Questo è solo un video veloce per farveli vedere, guardate. Questi sono i miei adorati. Facciamo le coccoline noi, sì? Eh? Allora, il siamese è blu, il grigione è coccoloso è Gino, che forma Gino a dire la verità, ma noi lo chiamiamo Gino. E poi c'è Socrate che è impegnato a farsi le sue pulizie. Socrate, no? Belli siete amori miei, sì? Siete i miei amorini? Gino è venuto già vicino a me. Guardate, non so, ecco adesso anche lui va a vedere, anche lui va a fare le coccoline anche lui. Oh, piccolini, sì? Ma mi volete tanto bene voi? Eh? Dite. Buonasera a tutti. Oh, bellini. Si è sentito un ronron e Gino che è vicino a me. Gino. Che vuole le coccole anche qua lui. Mi sta graffiando oltretutto. Guardate un po'. Guardate un po'. Guardate un po'. Stai fermo, Stai fermo, Stai fermo, Stai fermo, Stai fermo. Sì? E poi ancora dove vuoi andare? Dove vuoi andare? Eh? Dove vuoi andare? Guarda, guarda. Sì, 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 sì. Lui è coccolo, lui è grande coccolo, lui. Lui è grande coccolo, guardate qua, guardate qua. Grande coccolo, lui è grande coccolo, grande coccoloso. Amore. Basta che mi fai male, però. Ho un po' di tosse. Scusatemi. Vi auguro la buona serata a tutti. E buona cena.